Gioia di Ticongo in console Che c'è in console? Volevo presentare il trio magico che fa ballare l'Italia dalla Divine Stage, disco Acropolis Italia il trittico Bonito, Mario Pio, Ricky Leroy e Franchino Quando la voglia di vivere si fa sempre più intensa e più alta Oggi, il 17 agosto, solamente una domenica comunque normale Cosa cambia oggi però? Che è stata ideata una serata con il Cocorico, con l'insonnia e con l'eco Oggi, grande connubio, grande domingo, la notte Da questo momento, la speciale console rappresenta Ivan Gals L'idea dell'eco elettronico Grazie Franchino In console Tutti per voi Da destra in avanti Mario Pio e Ricky Leroy Tutte le Mario a zero, andiamo Echi Le Mario a zero Ricky Leroy E Mario Pio con il gol Oh yeah 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 I like it It's sound And programming It's a Why It's a Fire 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 Grazie a tutti 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 Baila conmigo Grazie a tutti 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 Perché era una Grazie a tutti Grazie a tutti E a tutti E a tutti E a tutti E a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E a tutti E a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E a tutti E a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E a tutti E a tutti E a tutti Grazie a tutti E 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 tutti E a 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 tutti